La candidata dei 5 Stelle, Presidente Antonella Ricchia, di nuovo a Manfredonia dopo poche settimane, delle sezioni era appassionale, l'hanno definita per la sua resistenza a questo patto di 5 Stelle voluto da Roma. Come stanno i fatti? Abbiamo appena depositato le liste e abbiamo avuto l'ok dalla Commissione valutatrice, quindi ormai questa storia può finire. Sono la candidata Presidente che guida una coalizione formata da due liste, la lista del Movimento 5 Stelle e quella di Puglia Futura con la Ricchia Presidente, cioè la lista della società civile. Uomini e donne delle scuole, della sanità, delle professioni che si sono uniti a noi perché vogliono rappresentare un'opportunità di cambiamento. Sono stata incapitanata per oltre una settimana, una terra bellissima in cui ho affrontato anche i momenti di maggiore tensione di questa campagna elettorale. Che è solo all'inizio. Che è solo all'inizio, esatto, diciamo, che ho imparato a conoscere, a approfondire, soprattutto legandomi ad alcuni valori profondi di questa terra. Non è un caso che qui sia nato il turismo della fede, che richiama, appunto, in realtà è la fede che richiama milioni di persone da tutto il mondo. Valori profondi e semplici, da buon cibo, la fede, l'archeologia, il mare, l'agricoltura. Sono veramente molto contenta e consapevole dei problemi ormai, dei disagi assurdi che vive questa terra. Dalla connettività alle infrastrutture materiali, tutte condizioni che la politica deve invece creare per rendere agevole il lavoro dei professionisti, delle imprese, ma soprattutto la vita dei cittadini. Su quello ci sarà il mio massimo impegno, con un cuore particolarmente, veramente, un rivolto a Foggia. Quali saranno i temi principali di questa campagna elettorale e come vede i suoi competitors? Prima di tutto il tema del lavoro. La mancanza di lavoro è il primo problema. Lo stato dei centri per l'impiego ci indica qual è il prodotto di una politica che sceglie di affidare un settore così strategico attraverso l'ARPAL in un balser di poltrone tra destra e sinistra. Poi, ovviamente, la sanità, quindi la riduzione dell'elizio d'attesa, il nostro primo obiettivo, a partire dal potenziamento della sanità del territorio e le infrastrutture, l'agricoltura, investimenti, quindi infrastrutture digitali e non, è richiamare, rivedere, insomma, le regole, ricontrattare le regole con la Commissione europea per cercare di uscire dal disastro del PSR. causato da due protagonisti, il primo Michele Emiliano che guida la coalizione di centrosinistra e il secondo Leonardo Di Gioia che invece è nella coalizione di centrodestra. E quindi votare Fitto Emiliano significa promuovere, ringraziare chi ha creato il disastro del PSR. e la legalità, la legalità è il pilastro, l'etica su cui si basa la mia proposta politica ed è quello che dobbiamo anche garantire in questo territorio, dove evidentemente se lo Stato è mancato per tanto tempo qualcuno ha pensato di potersi sostituire, lo Stato di creare un sistema di potere che ci ha reso la vita impossibile. Io sono su questo territorio, tornerò sempre e spesso garantendo l'ascolto continuo e sgombrandolo da questi parapoteri che condannano il nostro sviluppo economico, le nostre imprese, i nostri cittadini. Temi forti, quelli trattati dalla coalizione del Movimento 5 Stelle. Guglielmo Lecce, qual è l'impegno per Manfredonia e per la Capitanata? Volto nuovo dei 5 Stelle, anche un nome nuovo a differenza di altri partiti che hanno ricandidato persone che hanno già fatto una lunga carriera politica. Io sono, come già si saprà, un ingegnere, quindi io vorrei concentrarmi molto sul sistema infrastrutturale del nostro territorio, perché è una delle cose che più ci manca. Noi come Puglia facciamo parte dell'obiettivo 1 della comunità europea, quindi abbiamo a disposizione più fondi insieme ad altre tre regioni. Quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di utilizzare questi fondi e cercare di indirizzarli appunto per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda il sistema infrastrutturale del nostro territorio, dei nostri paesi, dei nostri borghi e quindi rivalutare tutti quelli che sono i nostri borghi, i nostri piccoli paesi. Proprio per far sì che i giovani e quindi il lavoro possa ritornare all'interno dei nostri territori, come è successo ad esempio nel periodo Covid, in cui abbiamo ritrovato con lo smart working ad esempio un sacco di ragazzi che sono rientrati nei territori. Quindi immaginiamo se questa situazione, chiaramente di ritorno da parte dei giovani, fosse costante nel tempo. Quanta ricchezza ci sarebbe nel nostro territorio? Il mio impegno per Manfredonia sarà sia dal punto di vista infrastrutturale e quindi per grazie appunto alle imprese, al turismo che è uno dei nostri... Anche per quanto riguarda la situazione del riordino ospedaliero, perché noi abbiamo un problema con appunto il sacco amico dell'Ellis, che è un ospedale ormai privo di reparti, che potrebbe essere un punto importante del nostro territorio, perché rimaniamo scoperti, l'abbiamo visto sempre nel periodo Covid. Questi sono i punti più importanti del nostro territorio, così come l'agricoltura e la pesca, per il quale io mi sono anche molto battuta, perché noi abbiamo tantissimi fondi, sia a livello di agricoltura che non sono stati utilizzati appunto, come diceva prima Antonella, con i PSR, sono tornati indietro, torneranno indietro questi soldi probabilmente e noi non siamo riusciti a utilizzarli. Ecco, noi queste cose non ce le possiamo più permettere, sia nella ruota appunto dell'agricoltura ma allo stesso tempo anche nella pesca. I soldi ci sono o ma li dobbiamo utilizzare? Antonella Laricchia, nel 5 Stelle abbiamo molte donne candidate, già prima della questione della doppia preferenza e la sua candidatura a Presidente nella dimostrazione. Sì, io sono l'unica donna che ha candidato a Presidente, con 8 candidati a Presidente sono solo una e le donne sono io. Sì, le donne energono quando ci sono le condizioni di parità e nel movimento c'è la parità, nel senso che non vedrete capi bastone che tirano e portano qualche candidato piuttosto che un altro, ma a parità di accesso alle informazioni vengono garantite, insomma la possibilità di conoscere, viene garantita la possibilità di conoscere tutti i candidati e così emergono anche le donne. Io credo molto ovviamente nel valore delle donne, sono state gravemente offese in questa legislatura da destra e sinistra. La prima, la destra, ha presentato 2000 vendamenti per cercare di fermare la doppia preferenza di genere e la sinistra ha abbandonato l'aula, si è spaccata. Insomma queste cose noi le abbiamo fatte, ma non contro le donne, le abbiamo fatte per fermare le schifezze, per fermare gli abusi, per fermare gli sprechi e invece viene fatto per fermare le donne come se fossero pericolose. Le donne non sono pericolose, sono preziose e noi le valorizziamo. In bocca al lupo alle entrambe. Grazie.